Buongiorno, cosa ne pensa di questa erba qui nella ciclabile? Cosa aspettano a venirla a tagliare? Perché questa è una roba fatta adesso, è ora di tagliarla, vedi se te passi qui ne passa uno, perché in due dobbiamo fermarci dalla parte di là, il comune cosa sta a fare? È ora che lo fanno questo lavoro. Questo implica anche un transito non regolare? Esatto, perché passi solo da una parte, da quell'altra non si passa, e allora di che venissero su qualcuno a mettere a posto ben bene una strada nuova, una stradina nuova che hanno fatto adesso, guarda come deve essere. C'è poco da pensare, no? Io penso che ogni tanto bisognerebbe tagliarla, tutto lì. Se non è stato possibile, sarà possibile in seguito. Signora, cosa ne pensa dell'erba qui nella pista ciclabile? È che ora di tagliarla! Cosa ne devo pensare? In due non ci si passa. Cosa?